Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Sta facendo molto discutere il caso di Ilaria Salis, eletta recentemente europarlamentare, alla quale è stata rivolta l'accusa di aver occupato una casa per molto tempo e è stato presentato anche il conto con l'ovvia ragione per cui ora, con lo stipendio da europarlamentare, può provvedere al pagamento degli arretrati. Ebbene, si è scatenata una vera e propria polemica presso il polo delle sinistre fucsia liberale atlantiste, le costole della globalizzazione neoliberale, è intervenuta la Salis, ma è intervenuto anche Fratoianni, il leader del partitino della New Left arcobaleno che ha candidato la Salis. Fratoianni ha detto che occupare case non deve diventare un reato, ma certo, bisognerebbe anzi dare il premio a chi occupa le case altrui, vero? Questo è il punto fondamentale per le sinistre fucsia che già da tempo non si occupano più di lavoro e di lotta all'imperialismo, ma che portano avanti come tableau de bord l'occupazione delle case altrui. Ovviamente le sinistre fucsia non dicono mai nulla contro i padroni del capitale, del big tech, dell'e-commerce, delle multinazionali. No, si scagliano sempre e solo, proprio come vuole il padronato cosmopolitico, contro i ceti medi sofferenti, magari anche rivendicando la liceità dell'occupazione delle loro case. La situazione sarebbe tragica se non fosse ridicola. Questo è il livello delle sinistre fucsia contemporanee che sono semplicemente le guardie arcobaleno del padronato cosmopolitico.